benvenuti alla lanza auto mi viene quasi da dire il bello delle auto vero severino giusto giusto ma puoi indicare dove siamo come sede e invitare i nostri telespettatori certo siamo a trezzano sul naviglio lungo la nuova vigevanese in via leonardo da vinci al 273 passiamo a vedere le nostre vetture eccoci qua questa è la bellissima clio pensate una clio oggi potete averla con 9.950 euro con la campagna per moto a rotamazione e col finanziamento dedicato a questo prodotto con la finanziaria della reno rc ricco oltre io so che c'è un 1.2 16,75 cavalli se abbiamo anche altre motorizzazioni abbiamo autorizzazione benzina anche 990 cavalli abbiamo il diesel 1.5 da 75 90 e 110 cavalli e la versione di ingresso anche per neopatentati quindi è adatta a tutti a tutti gli utenti qualsiasi cliente ma se l'utente è abituato andare a fare il gas c'è la versione c'è la versione gpl tra l'altro con dei prezzi molto interessanti gli allestimenti sono la versione life e la versione zen che è quella che stiamo guardando in questo momento comunque quando venite qui da noi siamo in grado di presentarvi tutti i prodotti compreso le versioni station vego certo ecco questa è la versione station vego vediamo l'interno che è interessante questa è proprio una familiare si vede una macchina comoda spaziosa non solo si può anche trasformare in versione autocarro per chi ha delle esigenze il trasporto per non avere un furgone ma una vettura comoda diventa 4 posti invece che 5 in trasformazione però è molto molto interessante questo prodotto severino vuoi aggiungere qualcosa questo si è la station vego costa soltanto pensate 800 euro in più della versione berlina quindi a partire di 10.750 euro pensate un prezzo così neanche un usato lo comprate passiamo a vedere la captur ecco una bellissima captur casa renault ovviamente severino che cosa ci vuoi dire macchina stupenda per tutte le signore comoda spaziosissima cinque posti comodi è un baule esagerato e il prezzo poi è interessantissimo pensate 13.950 una bellissima vettura una captur life scontro rotamazione permuta e finanziamento renault rc per cui venite a vedere questa vettura che da noi potete anche provarla vero marina certo ma che motorizzazioni ci sono partiamo dal 900 turbo 90 cavalli turbo benzina 1.590 cavalli e 1.5 turbo diesel 110 cavalli e alcune versioni anche con cambio automatico per cui venite venite ripeto sempre venite a trovarci che è importante venire qui ecco kajar anche questa è una vettura stupenda questa è un po più grande di captur e ovviamente con questa possiamo andare anche in montagna a sciare poi dove possiamo andare a fare la spesa con tutta la famiglia perché è molto grande e che dire questa vettura potete averla due 4x2 scusate 4x4 cambio meccanico e cambio automatico partiamo da 17.950 euro pensate una kajar a 17.950 euro con la campagna pemotor rotamazione col finanziamento rci passiamo a vedere la nostra nuova fantastica scenic e marina andiamo non sono marina naturalmente ma scenic c'è scenic e gran scenic come potete vedere c'è il 5 e il 7 posti una cosa che però severino non vi ha detto nelle formule con le offerte commerciali molto importanti che possiamo offrirvi ci sono anche il prolungamento della garanzia che è molto importante poi per quanto riguarda il post vendita quindi quando venite qui vi daremo dei dettagli maggiori vero severino? certo certo tutta la documentazione vi spieghiamo poi qui in ufficio come funziona le assicurazioni l'estensione garanzia e quant'altro importante che venite qui a vedere le vetture poi tutto il resto pensiamo noi ecco però volevo darvi un'altra informazione una dotazione che ha la gran scenic ad esempio è il ribaltamento i sedili posteriori elettrica con un semplice tasto potete ribaltare una volta sollevati i sedili per aumentare il vostro carico adesso andiamo a vedere la nuova megan ecco come vedete questa è la megan station vego macchina bellissima una linea proprio spettacolare pensate questa vettura potete avere con i sensori anteriori, posteriori, vetri oscurati 1500 turbodiesel da 110 cavalli, 1600 da 130 cavalli potete avere tutte le soluzioni e anche con cambio automatico e DC sempre con i nostri finanziamenti e sempre con la campagna rotamazione abbiamo un prezzo fantastico di 16.450 euro pensate soltanto 16.450 euro adesso andiamo a vedere anche la nostra ammiraglia talisma questa versione che vedete qui in blu cosmo è una talisma station vego marina la sta controllando, è molto bella questa macchina beh è carina come mia sorella marina ecco questa tra l'altro ha anche la trazione anteriore ma con le quattro ruote sterzanti il quattro contro che è una tecnologia esclusivamente di Renault applicata sulle auto a questo di questo livello ricco scusa intanto che siamo qui io e te cosa mi dici della nostra assistenza? i clienti possono avere l'auto istitutiva possono prenotare un tagliando avete ricambi per tutte le nostre vetture mi dici due parole in più? no non ti dico nulla dovete provare dovete solo chiamarci e provare la nostra efficienza la nostra disponibilità siamo sempre disponibili naturalmente era una battuta ironica potete contattarci telefonicamente prenotare l'auto istitutiva potete ordinare i ricambi anche telefonicamente quindi ogni vostra necessità noi saremo in grado di soddisfarla grazie Enrico vi aspettiamo qui per vedere e provare le nostre vetture grazie volevo ricordarvi anche che siamo aperte molto spesso la domenica potete contattarci al 02 44 55 653 per chiedere gli orari di apertura vero Severino? certo e volevo ringraziare di cuore tutti i nostri telespettatori che ci chiamano dovunque persino dalla campagna vi ringrazio tantissimo e per qualsiasi esigenza per qualsiasi informazione vi prego di chiamarci o venire a trovare grazie a presto grazie 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 grazie